Musica L'ambito della valorizzazione dell'arte contemporanea della rete di Caserta e attraversiamo un mezzo speciale dell'arte contemporanea della rete di Caserta Il concetto che ci offre questa sera il maestro Marco Costabi è un concetto speciale perché prevede un'azione di pittura, un action painting Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.